Buonasera a tutte e a tutti. Anch'io mi unisco ai ringraziamenti di John Elias Adey, ringrazio il circolo di lettori che ci ospita, la Generalitat Catalana e la delegazione che permettono questo bellissimo incontro, le nostre scrittrici Carlotta Gurt e Marta Oriols, la collega Claudia Demedio che come abbiamo detto si occuperà di tradurre le bellissime parole che ci porteranno all'interno della prosa di due scrittrici catalane di spicco e siamo qui perché effettivamente San Giordi è una grandissima occasione per parlare di libri, innamorarsi o reinnamorarsi della letteratura e dei libri. San Giordi è una festa che si celebra a Barcellona in particolare ma non solo in tutta la Catalogna poi il 23 aprile anche come giornata del libro internazionale ma nomino Barcellona nello specifico perché la città in questa giornata si anima, le persone si riversano sulle strade perché le librerie, gli editori, gli scrittori e le scrittrici sono sulle vie della città a presentare, a parlare di letteratura ed è un momento in cui come facciamo qui oggi è possibile da vicino incontrare le scrittrici e gli scrittori, vivere la letteratura così come solitamente la viviamo in solitudine a casa o in qualsiasi altro luogo ci piaccia leggere, questa è una grandissima occasione anche per noi a Torino di festeggiare i libri e le scrittrici. Ho il piacere anche di dire che tre volte ribelle il titolo di questa occasione di incontro è tratto in particolare da un verso di una poetessa, di una poeta come forse sarebbe più giusto dire, catalana nata nel 52 e morta prematuramente nel 98, Maria Mercè Marsal che disse sono felice e orgogliosa di essere tre volte ribelle perché sono una donna, perché sono di classe umile e di una nazione oppressa e quindi rendiamo omaggio ecco alla più alta letteratura perché Maria Mercè Marsal è una delle più grandi scrittrici del ventesimo secolo e qui oggi abbiamo due grandi scrittrici del ventunesimo secolo. Passo a presentarle brevemente ma perché possiate avere anche un'idea di chi sono, Carlotta Gurt, alla mia sinistra, è una traduttrice e anche una scrittrice, pubblica il suo primo libro, Cavalcarem Totalanit, che vince il premio Mercè Rudureda nel 2019, è un premio prestigioso della letteratura catalana, si tratta di un libro di racconti e il suo primo romanzo che è quello di cui parliamo oggi, che ho qui e che probabilmente avrete già visto, Sola del 2021, tradotto da Massimiliano Longo e Paola Olivetto. È sempre importante nominare i traduttori perché comunque sono parte del lavoro che porta, veicola le parole da una nazione all'altra. Carlotta Gurt è specialista di tante cose perché ha studiato scienze umanistiche, traduttologia, economia, studi orientali e quindi la sua capacità narrativa anche spazio attraverso orizzonti molto ampi. Allo stesso tempo Marta Orioles, di formazione storica dell'arte, se non sbaglio, vive e lavora a Barcellona, a meno che non abbia cambiato nel frattempo, è scrittrice, esordisce con un libro di racconti e poi il suo primo romanzo, imparare a parlare con le piante, che raggiunge un grande successo di pubblico e di critica. Successivamente pubblica il libro di cui parliamo oggi, Dolce Introduzione al Caos, meravigliosamente tradotto da Stefania Maria Ciminelli, è una traduttrice nota anche per altri libri catalani e ha già un altro romanzo che ancora non è tradotto ma arriverà la possibilità da dirne casa, che è stato tradotto in spagnolo come la possibilità di chiamarla casa, una cosa di questo tipo. Prima di entrare nel vivo di questi due bellissimi avvincenti romanzi, mi piacerebbe chiedere alle nostre scrittrici, proprio per allacciarmi al tema della giornata che risalta e eleva la lettura e l'importanza della narrazione, che cosa significa per loro la lettura, che cosa significa, come la vivono e soprattutto come vivono il San Giordi, perché possiamo immaginare come si vive il San Giordi da lettrici, ma ci interessa anche sapere come lo vivono da scrittrici. Carlotta, grazie. Grazie a te. Buonasera, ringrazio per venir a escoltarci. Mi scuso perché non parlo bene l'italiano, allora parlarò català. No. Bé, doncs la literatura. Per mi el fet de llegir és, suposo que sobretot, consol. És una manera de trobar alguna veu en el món que em fa pensar que no estic sola, no? Que hi ha algú altre que pensa coses que connecten amb qui soc, algú que és capaç de dir coses que sento i que jo potser no hauria pogut expressar i és com una manera de retrobar-me a mi mateixa. Per tant, el que sobretot trobo en el moment de llegir és una mena de consol existencial, crec. Ok. Per me la letteratura è una consolazione, un modo di leggere nelle parole degli altri qualcosa che io stessa sento, un modo di ritrovare me stessa nelle parole che io non ho scritto e ritrovare la mia voce nel mondo attraverso la letteratura. I sobre el Sant Jordi, doncs quan ets un autor és una cosa una mica estranya perquè, clar, tens tot el dia ple i has d'anar d'una parada a una altra a signar llibres i hi ha com aquesta massa de gent que passa perquè és com una cosa molt bèstia. Hi ha molta gent al carrer i llavors tu estàs allà i és com que ets una cosa petitíssima, petitíssima, també et signa algú, et fa molta il·lusió. Sobretot el que fa il·lusió és veure que tothom compra llibres. O sigui, fins i tot la gent que no compra mai llibres, aquell dia en compra llibres. I això fa que tinguis una mica d'esperança que la literatura no és morta. En el fons és una cosa que de vegades penso i que fa una mica de por. Sant Jordi è un giorno molto strano per me. È incredibile vedere come la gente passa da una bancarella all'altra a comprare questi libri, anche persone che normalmente magari non leggono, ma quel giorno decidono di comprare i libri. E c'è questa fiumana di gente che passa tra le varie bancarelle e che ti senti una cosa incredibilmente piccola in confronto alla quantità di persone. Toca? Buonasera. Io parlerò in catalano perché il mio italiano è piccolo. Moltes gràcies a tothom per ser aquí aquesta tarda. Em sumo al consol que deia la Carlota del que és la literatura per mi i afegiria potser que a mi m'ajuda molt a pensar, a expressar-me oralment normalment em costa i a expressar les meves idees també. I a través de la literatura crec que tinc aquesta distància necessària per anar ordenant els pensaments. I gairebé diria que l'acte d'escriure és més un acte de reflexió gairebé que creatiu per mi, no? Vi ringrazio per essere qui, ovviamente. Anche per lei, come per Carlota, la letteratura è una consolazione in qualche modo. Spesso è difficile esprimersi oralmente, ma invece la scrittura aiuta a riordinare i pensieri, quindi a capire che cosa si vuole dire. Quindi è un acto di riflessione più che invece un acto creativo, in un certo senso. Per el que fa al Sant Jordi, clar, és molt diferent quan no el vius com a escriptora i ara ja fa uns anys que el visc des de l'altra banda. Jo de petita recordo que era un dels meus dies preferits de l'any. Era el moment en què anàvem a comprar llibres amb els meus pares i era un moment molt bonic, realment. Aquella època en què els nens no tenien de tot el moment, sinó que havies d'esperar un aniversari o Nadal o Sant Jordi per tenir un regal que fos un llibre, no? I per tant és una festa que sempre m'ha encantat perquè la lectura m'ha acompanyat des de petita i ara ja com a escriptora la veritat és que des de l'altra banda jo crec que el que és preciós és que s'encomana aquesta energia que deia la Carlota, no? Dels carrers, de la felicitat de la gent. És que un dia, no? És que si tu pares a pensar una festa que es basa en regalar llibres i roses només pot ser extraordinària, no? I sempre penso en la d'estrangers que hi ha a Barcelona què deuen pensar aquell dia, no? quan aterren en aquella ciutat i està tot ple, no? I envaït per roses, llibres i aquestes muntanyes de gent, no? Sí que és molt estressant perquè és el que deia ella són franges horàries d'una hora i has d'anar d'una parada a l'altra arribes tard, trobes gent fent cua però és molt bonic. Jo crec que és bonic deixar-se embolc allà per aquesta energia. Ovviamente vivere San Giordi da scrittrice o da lettrice è molto diverso. Marta dice che da piccola era un momento di festa perché si ricorda che andava spesso con i suoi genitori a comprare questi libri perché per i bambini dell'epoca non era come per noi oggi o per i bambini di oggi che hanno tutto subito, ma il momento di comprare il libro era un regalo, un vero e proprio evento, c'era questa attesa del piacere che lo rendeva speciale. Ovviamente è incredibile vivere questa energia della strada, della gente, infatti si chiede cosa pensino i turisti quando vengono a Barcellona e vedono tutte queste persone che insomma comprano libri, che riempiono le strade. Una festa in cui si regalano rose e libri non può che non essere meravigliosa ovviamente, al tempo stesso però comunque è molto stressante per uno scrittore perché deve spostarsi da una libreria all'altra per firmare, autografare questi libri, quindi comunque c'è una una sorta di stress di fondo anche se la festa è comunque una festa molto piacevole. Grazie, sicuramente c'è uno stress di fondo però come lettrice vi assicuro che non si vede, perché le scrittrici e gli scrittori riescono sempre ad avere un sorriso, una parola per i lettori, è veramente bellissimo il modo in cui ci ricevono in città durante il San Giordi così come oggi ci stanno ricevendo qui. Vi propongo di prima di raccontarvi quelle poche cose che vi faranno venire voglia assolutamente di leggere questi libri, di leggere un frammento iniziale e anche ve lo leggo magari prima in italiano in modo che sia più facile la comprensione ma sicuramente poi vi propongo anche di ascoltare l'originale perché così si può ascoltare la musicalità di come sono nate queste parole nella lingua originale. Sola di Carlotta Gurt In questo luogo le autos sono fabbriche di nebulose che impediscono di vedere ciò che ti stai lasciando alle spalle e in ogni buca il mondo trema. No ho vedo niente senza di chiare. Abrim, abrim, 185 dies abans. Quando il camì s'ha endinsat al bosc, il vent m'ha començat a empènyer com si tinguessi pressa per fer-me arribar a la casa. He avançat sota una bogeria de núvols i fulles flanquejada pels arbres sense ulls que m'havien vist néixer. Il retrovisor, només la gran polseguera che aixecava la mia maquina al suo pass. In questo luogo, le autos sono fabbriche di nebulose che ti impediscono di vedere il che vas lasciando inrere. E con cada sott, il mondo senso trontolla. Aprofitto subito per allacciarmi con una domanda. Che cosa ci racconta questo arrivo a questa arrivata? Questo arrivo in questo bosco? C'è per caso qualche reminiscenza di altri libri della letteratura catalana? Si, de fet sola, quan vaig començar a escriure, vaig pensar que escriuria una versió lliure d'un clàssic de la literatura catalana, que es diu Solitud, que està traduït a l'italià. Llavors em vaig agafar com a l'esquelet i alguns personatges d'aquest clàssic i podríem dir que vaig agafar l'esquelet del clàssic i a sobre hi vaig posar la meva carn. I el que importa al final és la carn. Llavors no fa falta haver llegit Solitud, de fet ara s'ha traduït a l'anglès i és evident que a Anglaterra tampoc han llegit el clàssic català, però va ser com una manera de sentir-me més segura a l'hora d'escriure, perquè era la meva primera novel·la i vaig pensar que tenir això, una mena de camí que m'ajudés, m'ho faria una mica més fàcil. O sigui que hi ha algunes reminiscències d'aquest llibre que és Solitud, que és un llibre de l'any 1900, escrit per una dona que es deia Caterina Albert, però que es va haver de canviar el nom i fer-se passar per un home, que és Víctor Català, per tal de que funcionés millor la seva literatura. Sí, aquest llibre en realitat és una versione que potrem considerar una versione libera de Solitud, tradutta en italiano com a Solitudine, que és un romanço de Víctor Català, e lo pseudonimo maschile che veniva usato da una scrittrice catalana, Caterina Albert, e compone questo romanzo nel 1900. Quello che dice di aver fatto Carlotta è di aver preso questo scheletro del libro, del classico, e di averlo rivestito nella sua carne, quindi in qualche modo l'ha fatto per sentirsi anche più sicura dal momento che era il suo primo romanzo e quindi da avere una base da rivestire liberamente. Dolce introduzione al caos di Marta Orioles Camminavano ancora per strada, con quel bisogno di stringersi l'uno all'altra. Ridevano della scena dei loro due abbracciati, il braccio di lui intorno alla vita di lei, la figura imponente che disegnavano, le mani che si intrecciavano smaniose, l'allegria limpida e lo scompiglio di gambe e piedi che cercavano di adattarsi all'andatura comune. Fumavano entrambi, le sigarette tra le dita aggiungevano una punta di complessità a quel modo di camminare insieme, le risate tra le volute di fumo e quella condizione indistruttibile di chi si sa innamorato. Giocavano a calpestarsi le ombre che proiettavano sul selciato umido la sera, a dargli una forma finché diventavano una sola sagoma scura che li racchiudeva entrambi. Sembravano attori di un film in bianco e nero della nouvelle vague, un po' irriverenti, poco sentimentali e con quel tipico atteggiamento esistenzialista di fronte all'universo assurdo. Anche se non lo manifestava, lui aveva la sensazione che stessero gettando le basi di qualcosa. E adesso la versione originale passo... Anche se non lo manifestava, lui aveva la nota di... Es raien de l'estampa che formavano abrassati, il bravo d'ell envoltando la cintura d'ella, la figura contundente che dibuixavano, le mani agafate con urgencia, l'alegria líquida e il desgavell de cames e peus mirando adattare la marxa conjunta. Fumavano tutti. Il cigarro a le mani afegia un punto più di complexità in quel camminare juni, le rialle entre volutes di fum e quella condizione indestructibile di qui se sap enamorato. Jugavano a trepitjar-se le ombre che projectavano le llambordes humide a la nit, a donar-los forma fins a resultar una sola silueta fosca que els englobava els dos. Semblaven actors d'una pel·lícula en blanc i negre de la Nouvelle Vague, un pel·li reverents, tampoc gaire sentimentals i amb aquella actitud existencialista davant d'un univers absurd. Tot i que no ho manifestava, a ell li semblava que construien el principi d'alguna cosa. Grazie. Questo inizio me ha recordato, magari è solo una idea mia, un libro di cui in questo momento, perdonatemi non ricordo il titolo di George Perek, che diceva sarebbero stati felici, sarebbero andati a vivere insieme, avrebbero comprato i mobili, avrebbero tutto al condizionale. In questo libro ci sono due protagonisti, Marta e Dani hanno circa 30 anni, avete visto, sono innamorati, si abbracciano, si intrecciano le dita l'uno all'altro, le ombre, si sentono innamorati, vivono in un piccolo appartamento che però per loro è sufficiente, è tutto così perfetto, è tutto così meraviglioso da essere quasi irreale. Questa è una dolce introduzione a un caos che non tarderà ad arrivare. Ci vuoi dire qualcosa di più di questo inizio? di cosa e tratto spunto. Realmente è un inizio dolce che è come una carta di invitazione, o sigui, di seguida poso sobre la taula che le cose al principio sempre sono molto boniche e che malauradament a vegades sempre hi ha petites esquerdes che ci fanno cambiare e prendere decisioni. Per mi la novela es basa sempre, questa novela, nelle decisioni che prenem, tutte quelle cose che s'escapen del nostro control abans di prendere una decisioni. Per tant, sono due personaggi che in principi tenen le cose molto clares e che quando passarà il che passarà, ara en parlare, se n'adonen che tutti i loro fondamenti trontollano, che in fondo ni ell ni ella tenen le sue ideologie e i loro pensament tan ben posati, che tutto può trontollare. Questo inizio è appunto un inizio dolce, come ci dice il titolo, è un invito. Le cose all'inizio sono sempre belle, poi qualcosa le fa cambiare, soprattutto delle cose che sfuggono al nostro controllo prima che noi possiamo prendere delle decisioni e questo ci fa capire che anche quando ci sono delle basi solide, tutte queste basi possono sempre tremare, possono sempre crollare per quanto solide siano. Di fatto, il libro è strutturato in quattro parti, divise per capitoli e questo caos che si insinua immediatamente al secondo capitolo appunto non tarda d'arrivare. È duro, è tagliente, è fatto di due frasi, sono incinta, ma non voglio tenerlo. Il caos si inizia qui. Si, si inizia d'una manera molt contundent com bé has dit perquè volia deixar clar des del principi que aquesta no seria la reflexió al llarg del llibre sinó que ella tenia molt clar el que passaria, no direm als lectors com acaba la història, però el problema aquí és que tant el Dani com la Marta tenen opinions diferents de la decisió que han de prendre. a les hores pensava que amb aquesta imposició tan actual d'ara de pensar les coses ràpidament i d'haver-nos de posicionar sempre cap al sí i al no, la novel·la era una plataforma perfecta per ser una llarga reflexió i una llarga conversa i poder veure d'on ens venen les nostres decisions. Evidentment som personals però aquestes decisions estan fetes també de tot aquest malestar social que hi ha al voltant. És una parella jove com has dit abans que pateix per tant les conseqüències de la societat actual catalana que diria que és la general de tot Europa de la gent jove amb un context social que ofega bastant i per tant prendre una decisió com tenir fills no és només una decisió personal sinó que hi ha molta cosa social i política al darrere. A partir d'aquí anem coneixent la visió del Dani i la visió de la Marta cap dels dos havia parlat encara de ser pares estaven en aquest moment dolç d'enamorament i per tant això els agafa per sorpresa en un moment vital en què sí que podrien ser pares òbviament però també per parlar de com socialment allarguem la joventut i una parella de 30 ens sembla que encara són joves potser paro aquí Clàudia perdona Tranqui si sembla que siano joveni o loro se senten ancora joveni Sí i aquest com madonisme vital que potser ens ve una mica imposat també per aquesta prohibició de tenir accés a una vida de responsabilitats no només de fills però de feines estables d'habitatges de l'accés a l'habitatge amb condicions i no d'anar encara amb 30 anys haver de compartir pis amb amics perquè els sous no arriben per accedir a un habitatge en condicions Dunque questo caos inizia in modo molto tallente molto decisivo come appunto diceva Katyusha con queste due frasi sono incinta non voglio tenerlo quindi questo caos inizia di colpo e la protagonista Marta l'idea è molto chiara perché lei non vuole tenerlo il problema è che i due personaggi Dani e Marta non hanno la stessa opinione in merito e devono prendere questa decisione in qualche modo di fatto il libro è in qualche modo una larga conversazione per capire da dove arrivino queste decisioni da dove arrivi la decisione di tenerlo o non tenerlo che i due vogliono prendere in realtà questo viene anche da un malessere sociale che possiamo attribuire alla società catalana ma anche alla società europea più in generale e definirla come una società opprimente che in qualche modo condiziona questa coppia anche in modo politico e sociale i due non avevano ancora parlato di questa possibile genitorialità e il libro infatti parla anche di come in qualche modo socialmente allarghiamo questo periodo allunghiamo questo periodo di gioventù con una sorta di edonismo vitale quindi il cercare di sentirci sempre giovani quando in realtà parliamo comunque di una coppia di 30 anni che oltre a questo problema della genitorialità ha anche il problema del lavoro di un affitto del non voler condividere una casa con altre persone quando si è raggiunto una certa età sì torneremo presto su questo ma entrambi i libri hanno presentano uno studio molto accurato dell'interiorità umana e delle relazioni tra gli esseri umani sono due libri molto diversi se li consideriamo separatamente ma se li leggiamo uno dopo l'altro possiamo trovare moltissimi punti di contatto infatti vorrei vorrei proprio proporvi lavorare in questo senso e in quanto alle relazioni umane May che è la protagonista di questo romanzo sola è una donna diminutivo dire May ma vedremo ha un sacco di diminutivi perché ogni persona quasi che la conosce non dico ogni persona ma molti di coloro che la conoscono da vicino hanno ciascuno di loro un soprannome con cui chiamarla May vive a Barcellona con un marito ma questo matrimonio vive un momento difficile stantio quasi grigio potremmo dire un momento di difficoltà e non si sa bene se per questo motivo o perché May vuole scrivere un libro fugge dalla città per andare nel bosco a vivere in una casa che correggimi se sbaglio non è sua di proprietà ma lo è stata era la casa dove abitavano i suoi genitori e lei quando era piccola per cui si ritrova nel bosco in una masseria potremmo dire che la riporta a una condizione non solo di vicinanza con il bosco la natura e tutto ciò che significa ma soprattutto con con il passato e e ciò che significa ma teniamoci sulle relazioni umane nel bosco è sola davvero o ci sono anche altre persone il bosco d'alguna maniera il bosco una mica è il mezzo del camin della nostra vita e la selva oscura non deixa di essere una mica è una donna de 40 anni quando arriva un'edat que trobes que has de revisitar qui ha sigut fins llavors i d'alguna manera la casa és com revisita el seu passat i t'has de plantejar què vols fer amb el que et queda de vida la crisi dels 40 podríem dir que és això decidir què vols ser i què ha sigut llavors ella se'n va allà i està sola però hi ha altres hi ha un noi que és un apicultor que viu al bosco després tenim les persones del poble sempre sols sempre hi ha gent al voltant al final la solitud no és una cosa real és una cosa que està més aviat a dins del nostre cap nosaltres podem estar envoltats de gent i sentir-nos sols de manera que la solitud és més una emoció que no una penso que no una realitat per tant la novel·la es diu sola i parla en part de la solitud perquè hi ha un altre tema molt important del qual parla però que no es pot dir perquè si no ja us diria qui és l'assassí diguéssim i per mi és una mena de crònica de solituds de com aquesta protagonista que és la May va acumulant una sèrie de pèrdues també en l'àmbit de les relacions personals de pèrdues de tota manera i com ella va responent al final la solitud és una mena de situació que ens transforma quan estem sols ens convertim en algú altre i és una aproximació a la solitud que crec que és important destacar que no és l'emoció que predomina no és la tristesa és la ràbia la gent pensa una novel·la sobre la solitud serà un drama no, no és una novel·la que és molt rabiosa perquè al final quan tu estàs sol i no pots fer-hi res el que sents és impotència i llavors és una protagonista que té una mena de feminitat una mica violenta o forta o intensa en contra del que podries pensar d'entrada quan penses en la solitud Questo bosco rappresenta appunto il mezzo del camí di nostra vita perquè si tratta d'una donna sulla quarantina d'anni que in qualche modo deve reinventarsi deve capire què cosa vuole fare potremmo definirla la crisi dei quaranta ci sono diversi personaggi in realtà in questo paese in cui va a vivere tra cui un apicoltore quindi in realtà questa solitudine non è una solitudine reale non è una solitudine vera ma è una solitudine interiore potremmo dire di fatto possiamo sentirci soli anche quando siamo circondati da gente e da altre persone non facciamo degli spoiler perché sennò diremmo diremmo già tutto però lei accumula queste perdite in qualche modo e la storia ci spiega in qualche modo come reagisce May davanti a queste perdite e chi diventiamo quando siamo realmente soli di fatto questo libro non parla di tristezza come si potrebbe pensare inizialmente leggendo il titolo ma parla di rabbia la femminilità di May è una femminilità violenta forte molto potente e quindi questa solitudine in qualche modo viene però dall'impotenza di fronte a questa femminilità una femminilità appunto che in qualche modo un altro punto di contatto tra i due libri c'è c'è una possibile maternità che in un caso abbiamo visto è non voglio tenerlo ma non si sa cosa accadrà fino alla fine appunto il libro non lo dice fino all'ultima pagina perché è lì che ci tiene la tensione della lettura e anche nel libro di Carlotta Gurt in realtà si dice anche abbastanza presto che cosa succede con questa maternità però c'è un desiderio molto forte di maternità e in entrambi i casi anche nel tuo libro vedo una forte pressione sociale nel fatto che una donna raggiunta un'età un orologio biologico debba in qualche modo essere madre ma forse lei questo ce lo direi non è il ritratto vital in questo momento della sua vita addirittura non mangia quasi si lascia vivere non sembra il ritratto di una madre sì si lascia vivere io sono mare per esempio però per mi no è una imposizione social hi ha dones che vogliono che vogliono mares e che vogliono essere mares quindi poi poi n'hi ha unes altres che potser non vogliono si senten questa imposizione però credo che non è il caso madre che mai soprattutto ha con sua madre non possiamo svelare il finale ovviamente ma in realtà non c'è una vera e propria oppressione un'imposizione sociale sul fatto di avere figli quanto in realtà il fatto che la situazione si crea automaticamente succede qualcosa che fa tornare in me la speranza di poter avere dei figli ma anche qui il problema è che lei non si trova in un momento della vita in cui realmente desidera avere dei figli ma succede appunto qualcosa quindi non si tratta propriamente di imposizione sociale quanto della situazione che si crea Prima di tornare alla dolce introduzione al caos rimaniamo nel bosco perché vorrei chiedere visto che abbiamo appena detto che non è uno dei temi principali qual è invece il tema principale la natura probabilmente il rapporto con la natura la natura è per me un personaggio més un personaggio que come tots els personatges ha de ser un personaggio ambigu non? Tots els personatges un dels temes per mi també és l'ambiguitat la trama és ambigu els personatges són ambigus són bons són dolents la natura és bona o és dolenta a mi la idealització de la natura em sembla una estupidesa en el fons la natura té una part bona perquè et pot protegir et pot amagar però la natura et pot matar també i m'agradava la idea de retratar aquestes dues natures per tant per mi Per me la natura è un personaggio che è allà e che observa, che è il mondo della storia, la natura. Per me il tema è il mecanismo mentale e psicologico che abbiamo per sobrevivere a la vita. La vita è insoportabile, a volte, sovint. Il cap ha di fare cose, ha di fare cose per poter-ho suportare. I d'alguna manera è come che fa il nostro cap per adaptar-nos a la situazione sociale. Al final, les neurosis no deixen de ser un mecanisme d'adaptació per poter viure en pau, perché se no em seria insoportable. Per tant, per mi va una mica d'això, dels mecanismes de supervivència que tenim a dintre del cap. La natura viene considerata come un altro personaggio. Come tutti personaggi è ambiguo, così come la trama stessa è ambigua. È ambigua perché la natura ti può proteggere, ti può nascondere, ma al tempo stesso ti può uccidere. E all'interno del testo è un'osservatrice di quello che succede. Il tema principale, in realtà, sono i meccanismi mentali e psicologici che noi mettiamo in atto per sopravvivere, per mantenerci al mondo. E di conseguenza quello che fa il nostro cervello per adattarci alla situazione sociale che stiamo vivendo. Invece, non il bosco, non la natura, ma la città è fortemente presente, fortemente viva all'interno di dolce introduzione al caos. E anche la città può essere qualcosa di meraviglioso, ma può essere, come la natura, un luogo che può uccidere, così come gli elementi della natura. In più, appunto, il protagonismo ci raccontarai qualcosa di questo protagonismo di Barcellona nel tuo romanzo, ma vengono nominate anche altre città, perché in qualche modo c'è un immaginario di città cinematogràfica e via dicendo. Ci vuoi raccontare qualcosa? Io penso che a la città, a les meves novel·les, gairebé sempre hi és present, perché per a mi m'ajuda molto a crear aquest contrast entre la solitud on vull posar els personatges en aquest moment. Jo, per escriure, com deia abans, è una manera di reflexionar sobre cose, llavors penso che a la città, per molt accompagnati che ci sentim, a vegades precisament és quan més sols ens sentim també, perquè quan passen coses com el que els passa a la parella protagonista, un se la troba amb un mateix, i per tant, per molt rodejat de soroll i de gent que estiguis, aquest mirar-te a tu mateix davant del mirall a soles és el que m'agrada fer molt als personatges, posar-los al límit i que estiguin a punt de caure i s'hagin de conèixer ells mateixos. I penso que tota aquesta urbanitat i tot aquest moviment que hi ha a Barcelona en aquesta novel·la, i que també es parla de Berlín, perquè la Marta vol anar a treballar a Berlín, perquè és fotògraf i a Barcelona no té futur com a fotògraf, la ciutat dona molt de joc per crear aquest contrast. O sigui, que aquí potser sí que m'agafo més d'aquesta urbanitat com una eina literària gairebé. I penso que a vegades històries com aquesta, posades en un entorn rural, potser funcionarien diferent. Potser la petitesa d'un poble, els veïns, el sentir-se observat. No podrien prendre la decisió amb la mateixa llibertat que l'estan prenent aquí, evidentment la podrien prendre amb la seva llibertat pròpia, però potser l'acompanyament d'un lloc petit faria que les coses es portessin d'una manera diferent. No n'estic segura, però en qualsevol cas sí que és veritat que la ciutat sempre em serveix per fer més aquest contrast de quan un personatge s'ha de trovar amb ell mateix en un lloc que està rodejat de gent. La città è in qualche modo sempre presente in realtà nei suoi romanzi perché aiuta l'ambientazione dei personaggi soprattutto per quanto riguarda la solitudine. C'è anche questo gioco del guardarsi allo specchio nel momento in cui stiamo per cadere nell'abisso e questo viene molto rappresentato nel contesto cittadino. Ad esempio il personaggio di Marta vuole andare a Berlino perché è una fotografa, si occupa di fotografia ed è una città che potrebbe offrirle molti spunti. In questo caso però la città è uno strumento letterario in qualche modo. In un contesto rurale forse sarebbe stato diverso, ci sarebbe stata una libertà diversa, magari minore, nel prendere decisioni rispetto invece alla libertà di avere un posto più grande. E questo crea anche comunque il contrasto tra anche la solitudine e l'essere insieme ad altre persone in un contesto cittadino urbano. Sicuramente poi aiuta a vivere questa solitudine entrambe le protagoniste, ma anche appunto il protagonista maschile in questo caso perché la coppia fa da protagonista. Sicuramente c'è una grande importanza assegnata alla fiction diciamo in italiano, la ficzione, l'importanza delle narrazioni, l'importanza dei film, di tutto quello che è l'immaginario anche cinematografico che abbiamo visto anche leggendo l'incipit di Dolce Introduzione al Caos abbiamo subito trovato un film della Novelle Vague. Quindi in Dolce Introduzione al Caos Marta Orioles dice che Dani che effettivamente è scrittore di sceneggiature ma la sua condizione sì è stabile ma è precaria allo stesso tempo per cui deve anche un po' fare qualche altro lavoretto per sbarcare il lunario lavora con qualcosa di così fragile come la fiction diciamo in italiano forse non è così bello come dire la ficzione in catalano e secondo te riesce ad aiutare Dani questo immaginario? Lo aiuta a superare questo momento di caos che lo fa arrivare quasi al bordo dell'abisso? No sé si l'ajuda però sì che è certo che penso che la gente della nostra generazione e la nostre pares també la presenza di la ficzione tanto nel cinema come nel teatre come nella literatura è molto evidente in le nostre vides e che abbiamo appreso molti cose da la ficzione potser male appreso perché abbiamo enteso cose come l'amor come la felicità a través del cinema delle pelicule, dei libri e la vita è real e nel libro xoca questa ficció on ella sta immersa tot il dia ella è guionista o la Marta che crea imatges i per tant viuen amb questa fragilità e questa sensació de buscar questa bellesa de buscar questa perfecció però la vita té esquerdes com aquesta on ells acabano de caure i per tant è un resguard la ficció aquestes decisions que hem de prendre a vegades ens n'adonem que la ficció ens pot resguardar però moltes vegades no ens serveix perquè realment la vida a vegades és crua i te n'adones d'aquesta cruesa perquè allà no hi ha ficció és la realitat i sí que m'agradava aquest contrast de les seves feines que treballen amb aquesta fragilitat a l'hora amb una cosa tan potent com pot ser el cinema i la literatura però com a vegades amaga aquesta trampa que no tot és tan fàcil ni tan bell ni es resol tan bé a la vida les coses mai són tan lineals sempre hi ha moltes voltes no? i la cosa és complicata no lo so ma la nostra generazione quella precedente i nostri genitori è stata circondata in qualche modo da questa ficció da questa fiction da cui abbiamo di fatto imparato in qualche modo i sentimenti tra cui l'amore in realtà la vita però ha degli imprevisti ci sono delle cose che succedono che ci fanno capire che non tutto è perfetto come quello che vediamo al cinema nella finzione ma che la vita è cruda e nel momento in cui ce ne rendiamo conto questo contrasta con quello che abbiamo sempre visto di fatto lui è uno sceneggiatore scrive sceneggiati e lavora in un mondo instabile questa instabilità viene fuori anche poi nella vita reale e anche May però lavora con qualcosa di così fragile come la narrazione la finzione perché lei si è messa in testa che deve scrivere questo romanzo deve assolutamente scrivere questo romanzo sì perché penso che di volte come la mano a fare iscrivere è una maniera è una maniera è una maniera čentava che per esempio è tu, è autoficzio? Io sempre dic che no, però che quando tu scrivi sempre ci sono cose da la vita real che retalli, cose da la tua vita o da persone che conosci, che le retalli e le enganchi a un altro personaggio, a una altra situazione. E la relazione che ha l'Amey con la literatura, con il che scrivo, stai intentando scrivere una novela e si è obsesione con la idea di scriverela, una mica è che non sono io exactamente, ma molti cose sì, è come ti affronta a scrivere le teore spors de fer-ho malament, no? I em va semblar que era una manera d'exorcitzar aquestes spors, no? De treure'm aquestes spors de sobre, perquè en el fons la idea d'escriure i de poder fer una obra que té, no? Que sigui, que tingui un principi i un final i que tot lligui és consoladora. Igual que és consoladora la idea que la vida és incomprensible i després anem a la literatura i li demanem que sigui versemblant, no? A vegades escrius i et diuen no, això no ho pots escriure perquè és inversemblant, no? No t'ho pots creure, no és plausible. Però què passa? Que la vida és inversemblant, la vida no és plausible, no? Llavors anem a la literatura també buscant aquesta mena de consol d'un món on tot tingui una raó de ser, on tot sigui d'aquella manera i sigui comprensible perquè és així, no? La vida no. La vida passa en coses que no podem entendre, no? I que no són versemblants. Scriure, in qualche modo, és un instrument que tenim per fuggire, per scappar. La protagonista... Le chiedono spesso se la protagonista prenda spunto, in qualche modo, dal personaggio reale, se si ha una sorta di autobiografia. In realtà non és così, no és propriamente così, ma ci són sempre delle cose della vita reale dello scrittore que lo scrittore inserisce nei suoi personaggi, nei suoi libri, com'è l'esempio aquesta ossessione de escriure la paura de non riuscire a farlo, o di farlo male. È un modo anche, questo, per esorcizzare la paura di scrivere il romanzo. Ci consola spesso l'idea di scrivere qualcosa che sia legato, che sia fluido, che sia verosimile, ma in realtà nella letteratura, così come nella vita, succedono delle cose che sono inverosimili, che non sono plausibili. Grazie. Ci avviciniamo verso una chiusura, ma c'è ancora spazio per almeno una domanda. Io ho una piccolissima curiosità, anche così come docente, dico sempre ai miei studenti che i protagonisti non hanno un nome casuale, non è che si sceglie il nome così perché qualsiasi nome va bene. Per cui in particolare con May, che è il diminutivo di Remey, che sarebbe un rimedio tradotto letteralmente, volevo sapere se è un nome casuale o possiamo vedere un significato nella protagonista. Sì, per mi la idea, m'agradava la idea que fos un nom en què pogués jugar perquè a tots ens passa, almenys a mi em passa, que hi ha gent que em diu de maneres diferents i d'alguna manera la manera com et diuen les persones marca qui ets. És com si tinguessis diverses petites identitats diferents. Llavors la idea que la May és una persona diferent pel seu marit que per la seva mare, la seva mare sempre li diu Remey, que és el nom sencer, i el seu marit li diu May. I llavors, a més May també, en xinès vol dir bonic, i tenia una sèrie de capes que m'interessaven. I a banda, clar, la parola Remey vol dir una cosa que cura, o és la idea de la medicina, de que necessita un Remey i pensava que això tenia unes ressonàncies que m'agradava. I després tinc una tia que es diu Remey i que sempre li he dit May, i llavors era un nom que pensava que també que tenia una mica de caràcter perquè Remey sona molt antic, té unes ressonàncies de nom antic i en canvi May és com un nom molt modern. Llavors, és com aquesta cosa que podem ser dues coses alhora, no? Podem formar part d'una cosa molt antiga i alhora d'una cosa molt moderna i que tot ho tenim a dins, podríem dir. Remey è un nome con cui giocare, un nome letterario e di fatto il modo in cui ti soprannominano è un modo per avere diverse identità. Ad esempio, la madre e il marito la chiamano in modo diverso e questo è un modo per lei per essere anche due persone diverse o più persone diverse. In cinese May vuol dire bello ma è anche appunto Remey, un rimedio, quindi qualcosa che sa di medicina, qualcosa che ci cura. Anche sua zia si chiamava così e il diminutivo sa di moderno mentre il nome intero Remey è qualcosa che ci rimanda a un nome più antico, più vecchio. Allo stesso tempo questo è di fatto un modo per essere più cose, due cose perlomeno insieme. E Marta è Marta ma sono anche personaggi letterari forse di alcuni. Sì, Rick perché io non ho una storia tan unica come la della Carlotta per esplicare ma laura da me. Però ha un nome molto potente e Marta nella letteratura catalana. Marta en abreu a més a més vol dir la senyora de la casa. Ara estava pensant busqui una relació però no. La veritat és que si soc molt sincera el meu objectiu literari seria escriure una novela que se sostingués sense dir cap nom. A mi m'encanten aquestes noveles que se sostenen dient ella a ell amb un inicial i ja està però no ho aconsegueixo mai perquè em sembla que a mesura que el nom és important al final i per exemple ella té una justificació molt bonica i molt poètica i evocativa a més a més. Però Marta al final pensava busca un nom d'una noia contemporània de 30 anys que es pugui dir Marta i ja està no passa d'aquí però és veritat que al final a mi m'atabalen molt els noms penso que marquen moltíssim el personatge i et dic el meu objectiu és escriure sense nom a veure si ho aconsegueixo alguna vegada. No hi ha una història così bella de racontar-hi com a Carlota però volia addirittura escriure un roman que estia en piedi sense dar un nom a aquest personatge ma dice di non riuscirci perché di fatto questi nomi in qualche modo la mettono in dificultà e Marta è semplicemente il nome di una donna contemporanea di 30 anni catalana. di fatto forse l'errore l'ho fatto io a chiedere questa domanda alle scrittrici ma come dico spesso quando insegno letteratura ai miei studenti poi non mi credono poi ci provano eccetera dico in realtà non dovete chiedere certe cose agli scrittori dovete trovare voi il motivo per cui Marta troveremo noi un motivo potente per cui la tua Marta si chiama così perché sono assolutamente convinta che ci sia sempre una ragione che spesso nemmeno lo scrittore o la scrittrice sa e a proposta dell'esperimento di scrivere un romanzo senza nomi mi sembra che non sia stato ancora fatto quindi sì jo he llegit alguna novela ora non mi ve cap al cap però sì che alguna vegada penso oi che ve tot un text on il nome no té importància i amb els pronoms d'ell ja n'hi ha prou no potser a veure el nom també és veritat ara que ho estaves dient això és que fa temps que vaig escriure aquesta novel·la i a vegades m'oblido de coses me'n recordava que la meva novel·la prèvia d'aprendre a parlar amb les plantes estava escrita en primera persona aquesta està en tercera i era una història de pèrdua era una història dura més aviat trista i com que estava escrita en primera la gent no relacionava molt amb mi de seguida i jo havia patit una història de pèrdua que no era aquella però la gent tendeix a voler que tu estiguis dins d'aquella història sí o sí i era una cosa que a mi em molestava bastant i aleshores quan vaig començar a dolça introducció al caos vaig voler posar una distància amb tot i vaig pensar ara faràs tu d'espectadora serà en tercera persona no són romansi poi va verso novembre e ci sono dei frammenti suddivisi per giorni ed è un conto alla rovescia, no? E quindi questo conto alla rovescia ci porta sempre di più verso la fine. Come hai pensato questa struttura di tempo anche accelerato? Sì, de fet volia fer che fosse un diari, l'idea iniziale è che fosse un diari, perché mi piace molto la forma del diari, però després vaig pensare che le date m'atavalaven e vaig pensare che faré simplement que siguin els dies, l'arc temporal della novela, che erano 185 dies, e questo a més et permet per due raons. Una, perché tutta la novela è una llarga explicazione per entendre come una persona pot arrivare a quel final, e per tant è com che comencem enrere e al momento che arriviamo è il final di tutto, e l'altra, perché è una forma che il lector, des della prima frase, la prima frase è 185 dies abans, con la prima frase il lector già té una pregunta, no? Abans de què? I al final, quando li legim, busquem moltes coses, però també necessitem che hi hagi alguna cosa che ens estiri, una pregunta che necessitem respondre, no? I creia che l'estructura questa non funzionava. Inizialmente volevo che fosse un diario, ma pensavo che le date me l'avrebbero reso più complesso, più complicato, quindi il motivo di questa struttura, comunque per mesi, si differenzia in due ragioni. La prima è che di fatto si tratta di un romanzo, che è una spiegazione di come una persona arrivi al finale, di cui appunto si arriva solo alla fine della storia, e il secondo è che già nella prima frase il lettore ha una domanda a cui deve rispondere attraverso tutto il resto del testo. Grazie. E di fatto anche la struttura in dolce introduzione al caos ha un'importanza primaria direi, e una delle cose che ho notato leggendo è la contraposizione tra una lettura veloce, perché davvero questo libro chiama e vuoi sapere che cosa succede nel paragrafo e nel capitolo successivo, ma il lavoro della scrittrice è creare un libro in slow motion, a camera lenta. È una slow motion che noi leggiamo col fiato sospeso, quasi correndo. E, come ho detto prima, diviso in quattro parti, no? I pari, i dispari, lui e lei. Brevemente ci vuoi raccontare questa struttura e poi chiudiamo. Sì, això dels parells in parells è potser una visió general, no? D'aquest canvi que hi ha, no? Comencen com a parells, no? Com a dues persone che van juntas fins i tot a la vita, no? Com a projecte de parella, diguéssim, no? I després del que passa, no? D'aquest trencament, d'aquest petit caos que se'ls obre, cadascú té una visió diferent d'aquesta vida, no? I d'aquest projecte, i per tant, aquesta és la primera divisió així grossa, estructural, que potser és més de concepte i s'entén al final de la novel·la, no? I internament, hi ha aquestes setmanes que van passant, no? Que per mi em servien, sincerament, per posar una miqueta d'intriga, perquè la meva escriptura no crea intriga, no? És una escriptura molt intimista, molt reflexiva, i sempre em fa por que el lector es cansi, no? Llavors, d'alguna manera, has d'anar marcant un ritme i has de crear una mica d'expectativa, no? Aleshores, aquestes setmanes que marquen les setmanes de l'embràs que va avançant, com que tu saps que ella vol deixar enrere aquest embràs, no? I, per tant, té una data per anar a avortar, i no sap si arribarà o no aquest dia. Aquestes setmanes marquen una miqueta aquesta tensió mínima que ja n'ha descrit, no? Diré que no hi ha una tensió mínima. No? Diré que hi ha una tensió... Doncs me n'alegro. Fino a l'último, no? Veramente no se sa que cosa succega. Doncs me n'alegro, perquè era una mica l'objectiu, no? Trencar una miqueta aquesta pausa i aquesta reflexió, perquè tota la novel·la és molt de pensament, primer de la veu del Dani, després de la Marta, no? Encara que sigui un narrador extern, es posa molt a sobre de cada un d'ells i és molt intimista, es posa molt dins dels pensaments de cadascun, no? I a mi això sempre em fa por que rítmicament o estructuralment sigui massa pausat, no? Aleshores marcava una miqueta l'atenció a través de les setmanes. La prima división es grande, con la trapar y dispar y reprende un po' en realidad la división que se crea all'interno de la copia. Quindi inizan como una copia, ma successivamente con questo caos que s'inserisce, ognuno inicia a ver una visión diversa. E' una divisione più concettuale che si capisce solo alla fine del romanzo. La divisione interna invece per settimane ha l'obiettivo di creare una suspense, di creare, in qualche modo, di catturare l'attenzione del lettore. Difatti la sua paura era quella di non riuscire a creare un romanzo che tenesse sulle spine. Questa scansione invece delle settimane prima dell'aborto crea questa tensione che le definisce minima, ma che Katiuscia giustamente dice non è minima. L'obiettivo era proprio questo, cioè rompere un po' con l'introspezione dei personaggi, con questa visione un po' intimista e concentrata sui sentimenti dei due, in modo da creare anche un ritmo e una struttura vera del romanzo. Sì, perché mi permetto di dire c'è una data, c'è già una data con il medico l'appuntamento per andare ad avortire, ma vi assicuro che fino all'ultimo momento certo o una cosa o l'altra succede, ma non lo indovinate finché non arrivate all'ultima pagina, quindi si crea qui la tensione e la stessa tensione, molto forte con questa corsa all'indietro o all'in avanti che nel bosco insieme a molte anche leggende, riti, storie del passato ci portano in questa ambientazione più rurale, quindi abbiamo messo insieme due mondi molto vivi, molto immaginifici anche, quasi contrapposti, ma che ci propongono molti punti di contatto. Io non posso che ringraziare le nostre due scrittrici, Carlotta Gurt, Marta Oriols, la collega Claudia Nemedio, tutti voi che siete stati qui con pazienza e col sorriso anche con l'interesse di ascoltarci, Gian Elias e il Circolo dei lettori.